Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Mr. Ciacomiano e nell'avventura di Lords of the Fallen Dunque, vi ricordate che qui non sapevo dove andare c'era un maledetto ragnaccio schifoso che non riesco ad uccidere e continuo a non riuscire ad ucciderlo però, girovagando per queste zone mi è venuto in mente una cosa Innanzitutto, avevamo aperto questa porta e avevamo trovato cioè, non avevo capito che di qui potevo effettivamente uscire dall'altra parte quindi, evitare questo cancello che non riusciamo ad aprire dove c'è quella tipa lì che eh? che hai detto? dove c'è quella tipa molto sulle sue che scassa Dio, me ero me ero dimenticato di questo qui azulissimo vieni, vieni vieni eh, vabbè dai aia mi hai fatto malus non puoi uccidermi adesso non puoi farlo mamma mia appena il tempo oh, prendiamo un po' questa pozione della cura dunque ma noi qui ci siamo già passati sì era questo lato che non ricordo che non con i quali non mamma mia che stiafo che mi ha tirato guarda però oh sì perfetto e vai con l'ultimo no ecco ok ah e poi come avete visto ho ripreso la bacchetta del monaco perché è molto più veloce e rende tutto molto più facile ho dunque qui è da dove siamo arrivati io ho visto che lassù in realtà c'è una porticina per andare probabilmente qua sotto però effettivamente c'era ancora questa cosa che non avevamo esplorato quindi proviamo prima di qua allora allora dove siamo io mi perderò tantissimo in questi in questi in questo suoco ok siamo nella la 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 a nord ecco è riuscito a colpire lo stesso barbalucco anche perché mi dimentico di non avere lo scudo oh me la prendo con questi no ha ricevuto una runa si tratti di un oggetto potentissimo che può essere utilizzato per poggiare le armature per cambiare l'effetto del tuo quanto per farlo cerca qualcuno in grado di identificare la vera e di usarla per forgiare andiamola a vedere dovrebbe essere tra l'altro questa vedete uno di due io ce l'avevo tre di tre prima non so come ricordarla allora abbiamo una sigillata che è sconosciuta e questa è piccola e questa è grande dovrebbe essere perfetto intanto non posso farci niente perché ho bisogno di qualcuno me la folgi cancelli delle mura io vado con lo scudo spiegato che no che me la spiega no ragnetto schifoso deve essere figlio di quel ragnone che avevamo visto dove diavolo sei vattene dov'è quell'altro dov'è quell'altro oh lo devo aver già ucciso senza rendermi conto tanto che sono tanto sono potente capito allora allora qui c'è un bello scrigno vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante prendi che sangue caldo sangue caldo andiamo a vedere che cosa sono dunque il martello questo qui niente questo è il guanto armatura pesante per ora no che cosa era allora quella cosa lì che ho visto prima quanto caldo che cacchio era no ah forse vabbè semplicemente c'è ma non non è interessante per me vediamolo un po' un attimo qualcosa e simmetria oddio effettivamente sarebbe il doppio eh di difesa c'è una 36 proviamolo un attimo va da 11 e 20 vediamo eh vediamo se poi dopo sono troppo allora questo invece mi va piuttosto bene non c'è molta differenza invece questo ci riede abbastanza differenza mi spassa da 220 a a 7 di peso quindi niente questo qui questo qui io però me lo tengo così com'è e niente vediamo un po' com'è ancora fattibile ancora fattibile vediamo prima di tutto dove andiamo a finire ah ecco infatti è proprio quello che dicevo era questa la porticina che dicevo che secondo me portava noi eravamo dall'altra parte dove c'è quella parla col tridente vabbè riscendiamo lasciamo perdere tutti quei nemici che ci sono lì e continuiamo di qua tra l'altro qui c'è qualcuno che non riesco mai a capire se è girato dalla parte della testa oppure no comunque ok andiamo avanti no che fammi vieni dietro eeeh andiamo avanti e continuiamo a salire con il nostro scudaccio chi è questo chi sei te ok è un personaggio con il quale parlare allora non ho attenzione di ucciderti forse vabbè te c'è la maschera voglio dire se no chi lo sa vabbè vattene le cercherò dai va bene che aspettate forse abbiamo abbiamo un anello o che cos'è questo qui questo scondo rende visibili i segnali ah ok semplicemente va bene l'abbiamo non ho visto l'abbiamo messo baggiato si molto molto bene allora 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 vediamo un po' qui c'è qualcosa per noi no sto cercando di capire come si fa dal calcio non ho ancora capito allora va bene dobbiamo salire ancora apri guarda con quale sbruffo ma ma siamo tornati qui cristo siamo tornati qui e ora dove devo andare allora adesso ti fa c'hai da dirmi qualcosa perché antanas capito a tutti ma questa è una leva ma porca di quella troia ma com'è possibile c'era una leva maledetta c'è loro quanti ci sono qui ah ecco intanto c'è quell'altro che mi gira intorno come un coso allora si fa così botte a tutte e due come l'arena backstep che rallentando si riesce a fare meglio eccolo qua bene peccato che ho perso quasi una vita intiera porca miseria c'è un boss e io non c'ho un cacchio di energie oh ma me l'ha me l'ha cosato si me l'ha lockato no no ah cacchio ho perso un sacco di energia lì entro e ci dovrebbe essere porca miseria voglio prendere la la mia le giacchette in realtà ho paura che non servirà a niente perché non posso comunque uscire di qui esatto una cosa inutile porca miseria oh intanto sono riuscito a lockarlo che sta succedendo cose non simpatiche allora vediamo un po' che ne dici di questo eh tanti punti eh mamma mia potrebbe essere un'idea andare avanti così che cos'è questa cosa bruttissima eh si ora purtroppo no che cazzo era questo ho dei problemi a lockare la gente ma ce la posso fare eccoci qua uh mamma mia incazzatissimo incazzatissimo fammi lockare lui ah 38 lo stesso scudo o meno uh non gliene può fregare di meno appunto mamma mia con lo scudo eh no eh no è un colpo però l'ho preso lo stesso eh di certo non posso continuare ad aspettare così che mi si ricarichi il mano ma d'altra parte eh voglio provare con quello esplosivo ma ora c'è poco da provare perché ce n'è uno qui di sicuro vieni no ho tolto io poi sono senza energia cosa vuoi che faccia non sono riuscito a beccarlo dietro e qui sparo intanto ti pare giusto una cosa così vai andiamo con il fucile qui no no non me ne sono accorto che mi ha colpito impossibile che mi ha colpito Grazie.